eccoci pronto per un nuovo video questa volta non è un costume ma è un top che ho preparato per mia nipote l'amica l'ha visto e mi ha chiesto se lo facevo anche a lei quindi alla fine ne ho dovuti fare due proprio identici uguali qualche piccola differenza perché ho trovato una leggera diversità di spessore di filato tra il colore rosso che è questo per mia nipote e il bianco che invece ho fatto per l'amica quindi c'è proprio una piccolissima differenza ma è una cosa diciamo che è una cosa minima non si vede nemmeno proprio perché lo so e via per fare la coppa di questo top potete utilizzare quella fatta per il costume il bikini di cui vi lascio il link nel primo commento oppure nel box informativo sotto al video se siete da computer se invece siete da cellulare fate prima ritrovarla nel primo commento il video lo dovete seguire fino al minuto 8 perché dall'ottavo minuto in poi ci allacciamo a questo video perché le cose sono un pochino diverse tra costume e top pur essendo la coppa di base la stessa quindi adesso andate a vedervi come fare la coppa e poi seguite questo video per completare tutto il top vi lascio il video terminata la prima coppa dobbiamo dobbiamo andare a fare tutto intorno al ai due lati diciamo obliqui il punto bassissimo quindi ogni punto diciamo così libero noi entriamo e facciamo un punto bassissimo in pratica ogni due giri cioè ogni sì due giri uno di punto alto e uno di punto basso faremo tre giri perché nel punto basso nel punto alto vedete abbiamo questo punto libero abbiamo quest'altro chiamiamolo un buchetto così forse ci capiamo meglio faccio un altro e qui nel punto basso ne facciamo un altro siamo nel giro di punto alto ne faremo uno qui nel primo uno nel secondo e uno nel punto basso adesso cerco di farvelo vedere un pochino più da vicino così allora qui abbiamo il nostro punto alto ed è uno due e tre nel punto basso quindi due nel punto alto uno due e uno nel punto basso voi sapete che ogni due righe di lavoro di cui uno a punto alto e uno a punto basso dovete fare in pratica tre punti bassissimi e questo lo facciamo tutto intorno ai due lati obliqui ora proseguiamo sino in cima e poi vi faccio vedere come fare qui vedete abbiamo fatto tutta questa catenella di punti bassissimi siamo arrivati sulla punta adesso proprio qui nel punto centrale dove all'inizio abbiamo fatto i primi punti alti lavoriamo due punti bassi dovrebbero essere sufficienti due punti bassi per diciamo rigirare poi e scendere con la nostra catenella di punti bassissimi se vedete che vi tira un pochino ne potete fare anche tre guardiamo un attimo ma vedrete che ecco vedete sì tutto sommato due sono sufficienti quindi giriamo il nostro lavoro e continuiamo a fare due punti due diciamo punti bassissimi nel punto alto e una nel punto basso e arriviamo sino in fondo uno due e tre uno due e tre nel punto basso e così fino in fondo in modo che formiamo tutto questo bordino intorno alla nostra coppa anche questo lato oblico secondo lato è terminato adesso dobbiamo lavorare un giro di punto basso sull'ultimo giro che abbiamo fatto nella coppa cioè sull'ultimo giro che era di punto basso quindi arrivate qui in fondo ci andiamo a riattaccare punto per punto ecco ad esempio qui non si riesce a girare perché sarebbe troppo teso nell'angolo sul primo punto basso ne facciamo due e poi continuiamo a fare un punto basso ogni punto basso sottostante quindi sulla base della nostra coppa adesso al momento risurteranno due giri di punto basso così fino arrivare al lato opposto arriviamo a fare l'ultimo punto basso proprio nell'ultimissimo punto che abbiamo fatto prima di girare cioè prima di iniziare questa catenella dovete arrivare vedete proprio sull'ultimo punto arrivate qui facciamo due catenelle e nel primo punto di di base diciamo di nella catenella che abbiamo fatto nel giro precedente andandola a prendere proprio così facciamo un punto alto due punti alti tre punti alti sempre nello stesso punto di base cioè nello stesso punto bassissimo nel primo che ha formato questa nostra catenella adesso ne saltiamo due uno e uno due il rosso è ostico ma anche il bianco così ottico rimane molto molto difficile da vedere comunque saltate il primo saltate il secondo nella terza catenella andiamo a lavorare di nuovo tre punti alti senza fare catenelle tra un gruppo di punti alti e l'altro proprio come se facessimo una piastrella granny uguale tre punti alti qui mi è uscito mezzo alto perché il filo dov'è eccolo rimaneva un po' tirato peccato così facciamo il terzo questo è il giro che richiede un pochino più di attenzione cioè di fatica perché lavorare in questi punti così stretti non è facile però si riesce bene saltiamo altri due uno e uno due nel terzo andiamo a lavorare di nuovo i tre punti alti e fate così sin arrivare in cima alla punta se vedete che il lavoro scusate che mi è rimasto un filo ecco se vedete che il lavoro questo bordino che stiamo facendo vi risulta troppo largo potete saltarne anche tre punti di base l'importante è che i punti che saltate di qua poi li dovrete saltare anche dall'altra parte per ora diciamo che sta venendo bene però se poi vi sembra proseguendo che tenda a sventagliare un pochino allora ogni tanto saltatene tre uno due e nel terzo eventualmente fate uno due tre e nel quarto fate i tre punti alti arriviamo sino qui in cima siamo arrivati alla cima io ho fatto mi sono usciti tredici gruppi di tre punti alti due quattro sei otto dieci tredici siamo siamo alla cima e nei due punti bassi che abbiamo fatto vi ricordate in questo nel buchino centrale andiamo a fare anche qui due gruppi di tre punti alti devono restare proprio al centro due tre e nel seguente ne saltiamo uno nel mezzo perché altrimenti non mi rimangono centrali poi comunque adesso lo vediamo scusate e adesso ricominciamo qui ne avevamo saltato soltanto uno quindi anche dall'altra parte vedete avevamo finito qui poi sotto per farli centrali sulla punta abbiamo saltato io ho saltato soltanto un punto comunque che sia uno che sia due gli stessi punti che aveste saltato da questa parte li dovete saltare anche dall'altra in modo che chiamiamoli i quadratini formati dai tre punti alti rimangano perfettamente in linea da una parte e dall'altra questo vuol dire che 13 li abbiamo fatti qui più due centrali altri 13 li dobbiamo fare dall'altra parte sempre saltando i due punti tranne per me qui nel primo che ne devo saltare solo uno ecco anche questo sarà un pochino ostico come è stato dall'altra parte ma si riesce a fare si rallenta solo un pochino ma si riesce benissimo ecco proseguiamo fino in fondo contando che debbano essere 13 e 13 arrivati in fondo sempre arriveremo nella stessa posizione i tre punti alti così come li abbiamo fatti all'inizio dobbiamo fare ancora un punto alto che corrisponde in pratica alle tre catenelle di inizio in giro facciamo una catenella e su questo punto alto lavoriamo due punti bassi uno due e poi lavoriamo tutti i punti bassi per la terza volta sarebbe il terzo giro di punti bassi fino ad arrivare qui in fondo sulla parte diciamo bassa del triangolo sul lato basso non sul lato diritto non sui lati obliqui tutto un giro di punto basso fino in fondo arrivati all'angolo lavoriamo i due punti bassi nelle tre catenelle iniziali esattamente come abbiamo fatto da questa parte una e due che diciamo corrispondono al diritto facciamo ancora una catenella che serve per formare l'angolo per girare diciamo così sul lato obliquo e nello primo spazio questo l'abbiamo già occupato nel primo spazio che c'è tra un quadratino e l'altro andiamo a lavorare cinque punti alti in pratica un ventaglio uno due tre quattro e cinque e cinque nello spazio seguente lavoriamo un punto basso questo gomito non mi va sempre sulla destra lo voglio sulla sinistra nello spazio seguente di nuovo cinque punti alti e così facciamo sino ad arrivare sulla punta del nostro triangolo quindi tre quattro e cinque spazio seguente un punto basso arriviamo fino qui in cima sul diritto poi proprio sulla punta vi faccio vedere come fare per ora fate così vi resteranno lo spazio dove fate il ventaglio un pochino più largo lo spazio dove fate il punto basso un pochino più stretto è giusto che sia così vedete esattamente così eccoci di nuovo sulla cima dove abbiamo fatto qui gruppo di tre punti alti un attaccato all'altro adesso dobbiamo girare il nostro lavoro facendo continuando a fare i ventagli però dobbiamo fare anche il cordino che poi legherà il nostro top dietro il collo per cui saltiamo cioè non andiamo a fare il punto basso tra i due gruppi ma facciamo un punto basso nel primo punto alto che troviamo un secondo punto basso nel secondo punto alto che troviamo e qui ci ritroviamo esattamente al centro del nostro della nostra punta siamo proprio al centro della punta da qui facciamo una 80 90 catenelle diciamo facciamo una lunghezza più o meno scusate l'ho legata guardiamo un attimo quanto sarà un po' meno sarà intorno ai 60 70 centimetri comunque questo dipende un pochino da voi come preferite quanto preferite farlo lungo come preferite farlo lungo all'incirca diciamo che andiamo a montare una dagli 85 alle 90 catenelle facciamo il nostro cordino finita la catenella in ogni catenella andiamo a lavorare un punto basso partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto tutti i punti bassi sino alla fine quindi se abbiamo fatto 90 catenelle saranno 90 punti bassi ogni catenella un punto basso sino arrivare alla fine arrivati all'ultima catenella abbiamo fatto l'ultimo punto basso facciamo un punto bassissimo non nell'ultimo punto dove abbiamo già lavorato il punto basso ma nel seguente quindi facciamo qui un punto bassissimo e chiudiamo il nostro laccetto vedete che rimane il laccetto rimane esattamente al centro dei due gruppi di tre punti alti cioè dei due quadratini chiamiamoli che sono di sotto fatto questo nei due punti alti seguenti lavoriamo due punti bassi esattamente come avevamo fatto qui e nello spazio tra i tre punti alti andiamo a lavorare cinque punti alti facciamo l'altro ventaglio due tre quattro e cinque e il filo ce l'ho di nuovo di qua eh signor non so come mai sembra che abbia una vita sua nel seguente un punto basso nel seguente ancora cinque punti alti vedete che rimane esattamente al centro i ventagli sono precisi tanto da una parte che dall'altra e adesso continuiamo a fare gli stessi ventagli che abbiamo fatto sulla destra li facciamo sulla sinistra arrivati alla fine facciamo un punto basso nello spazio nell'ultimo spazio e chiudiamo con un punto bassissimo con questo avremo finito la nostra coppa adesso dobbiamo andare a costruire questa parte che poi andrà unita all'altra coppa che voi farete esattamente uguale soltanto che faremo dalla sinistra della coppa la parte centrale dalla destra nell'altra coppa lo faremo in modo asimmetrico cioè a specchio esattamente dall'altra parte per cui adesso noi andiamo a lavorare su questo lato abbiamo finito il giro giriamo il lavoro con dei punti bassissimi ci portiamo al centro del ventaglio quindi ogni punto basso che abbiamo fatto facciamo un punto bassissimo due tre ci portiamo al centro del ventaglio una catenella e un punto basso nella catenella del giro precedente lavoriamo cinque punti alti uno due tre quattro e cinque cinque punti alti un punto basso al centro del ventaglio sottostante un altro ventaglio sul punto basso questo lo facciamo in tutto tre volte uno due e tre in tutto dobbiamo avere tre ventagli separati da un punto basso ecco vedete abbiamo fatto tre ventagli e l'ultimo finiamo col punto alto giriamo il lavoro e anche qui saltando il primo punto basso andiamo a fare tre punti bassissimi sui primi tre punti alti arriviamo al centro del ventaglio facciamo una catenella un punto basso un ventaglio nel punto nel punto alto uno due e tre ci fermiamo al centro del ventaglio e andiamo a prendere l'altra coppa che abbiamo già fatto scusate che mi si scarica l'altra coppa che abbiamo fatto a specchio e al centro del del ventaglio scusate qui mi è rimasto questo puntino che non mi piace niente forse non dovevo fare il punto basso proprio l'ultimo invece che fare il punto basso proviamo a farlo bassissimo così girando non rimane si vedete rimane rimane un pochino più piccolo comunque sono sempre due tre la catenella e il punto basso si rimane un po' più dal diritto quasi non si vede meglio così quindi punto bassissimo non punto basso l'ultimo facciamo tre punti alti cioè metà ventaglio due e tre sul terzo ventaglio andiamo a agganciarci al ventaglio dall'altra parte al centro del ventaglio dall'altra parte con un punto bassissimo così proseguiamo gli altri nostri due punti alti per completare il ventaglio uno ah scappato abbiate pazienza uno e uno due punto basso al centro del ventaglio sottostante tre punti alti cioè metà ventaglio come abbiamo fatto in precedenza uno due e tre andiamo a prendere il ventaglio nella coppa opposta e al centro sul punto centrale ci andiamo ad agganciare con un punto bassissimo e lavoriamo gli altri due punti alti che mancano per terminare il nostro ventaglio al centro del ventaglio seguente chiudiamo con un punto bassissimo così abbiamo unito le nostre due coppe terminato il fatto il punto bassissimo possiamo chiudere e tagliare il nostro filo adesso dobbiamo andare a lavorare la parte della sottascella che faremo esattamente come abbiamo fatto da questa parte così vedete rimane proprio il corpetto che va sotto l'ascella e non fa non lascia diciamo libero il seno da questa parte ma rimane molto più raccolto ok prendo le forbici taglio il filo e passiamo questa parte quindi andiamo a prendere il lato destro opposto della nostra coppa per fare la parte che andrà poi sotto nel sottascella qui abbiamo un punto basso quindi ci agganciamo al punto basso e lavoriamo mezzo ventaglio cioè facciamo tre catenelle una due e tre e nello stesso punto basso lavoriamo ancora due punti alti uno e due un punto basso al centro del ventaglio due tre scusate cinque punti alti cioè un ventaglio nel punto basso seguente tra i due ventagli il carica batterie che scontro e porto via e mi finisce che rimango senza batteria mi si interrompe il video meno male che me lo segnala allora un ventaglio tre intanto spariscono tre quattro e cinque un punto basso nel ventaglio seguente un altro ventaglio sul punto basso sottostante quattro cinque un punto basso mi ha fatto i due dovremmo farne tre se non sbaglio guardiamo dall'altra parte no due mezzo più altri due esatto esatto avrò sbagliato allora terminiamo invece come abbiamo fatto dall'altra parte invece che terminare col punto basso terminiamo col punto bassissimo giriamo il nostro lavoro facciamo dei punti bassissimi per arrivare al centro del ventaglio esattamente come abbiamo fatto dall'altra parte due e tre una catenella un punto basso un ventaglio al centro uno due tre quattro e cinque punto basso ventaglio sul punto basso sottostante di nuovo cinque punti alti uno due tre quattro e cinque punto basso sulla terza catenella di inizio giro precedente cioè su quei tre punti catenella che abbiamo fatto che sostituiscono un punto alto sul terzo punto facciamo un punto basso giriamo il nostro lavoro facciamo di nuovo tre catenelle una due tre e due punti bassi che cosa sta roba scusate scusatemi chiamiamolo il bello della diretta pure sì che è sera ma ho le zanzariere ho tutto chiuso non so da dove possa essere entrato era una una farfallina un po' troppo scura allora dicevamo tre punti catenella e due punti alti nel punto basso quindi facciamo un mezzo ventaglio un punto basso al centro un ventaglio sul punto basso sottostante uno abbiamo quasi finito due si è torcigliato tutto il filo questo filo è la mia ossessione due non fosse bianco l'avrei già buttato per terra però per quanto pulito sempre bianco è e chiudiamo sul punto centrale con un punto bassissimo in pratica abbiamo fatto un ventaglio e mezzo giriamo il nostro lavoro dobbiamo andare proprio a a finire a in niente due mezzi due si punti bassissimi uno due un altro punto bassissimo al centro una catenella e un punto basso un ventaglio un punto basso sulla terza catenella di inizio giro precedente punto basso e un punto basso giriamo il nostro lavoro dobbiamo fare ancora un praticamente un mezzo punto un mezzo ventaglio quindi tre catenelle qui ne bastano anche due perché non dobbiamo più farci il punto basso quindi anche due catenelle solo e due punti alti ecco proprio all'ultimo trovo il nodo che peccato proprio all'ultimissimo sarebbe bastato pochissimo per per evitarlo proprio alla fine vabbè cercheremo poi di nasconderlo un punto basso anzi bassissimo perché è l'ultimo al centro del ventaglio sottostante a questo punto abbiamo finito anche la nostra parte che va vedete sotto l'ascella da una parte e dall'altra è uguale possiamo tagliare il nostro filo e adesso andremo a fare la parte di sotto cioè questa questa fascia che unisce tiene unite le nostre coppe e poi dietro metteremo dei bottoni a questo punto dobbiamo calcolare quanto è il nostro giro torace in centimetri quanti sono i centimetri del nostro giro torace che ci servono per fare il nostro top più calcoliamo qui forse l'ho cavalato un po' tanto calcoliamo almeno tre centimetri da sovrapporre per poter poi inserire i bottoni quindi voi sulla base dei centimetri che calcolate andate a a fare delle catenelle in questo modo allora ci attacchiamo alla parte destra guardando il reggiseno che poi in pratica indossato è la parte sinistra andiamo proprio qui sulla cima e montiamo tante catenelle che corrispondano alla metà dei punti che dobbiamo andare ad aumentare per raggiungere il nostro giro torace quindi fate tante catenelle necessarie a raggiungere la vostra misura così raggiunta la misura tagliate il filo adesso andiamo dall'altra parte poi vi dico perché abbiamo fatto prima la parte destra guardando il top sinistra indossato adesso passiamo all'altra parte sempre partendo dalla punta dalla cima facciamo lo stesso numero di catenelle che abbiamo fatto dalla parte opposta lasciate sempre un po' di filo intanto poi andiamo a assicurarlo tante catenelle quante ne avete fatte dall'altra parte adesso senza staccare il filo lavoriamo tutti punti alti quindi facciamo ancora tre catenelle per girare il nostro per alzare diciamo il primo punto e partendo dalla quarta catenella lavoriamo tutti i punti alti però prendiamo un solo filo prendiamo il primo filo non prendete tutte e due prendiamo solo il primo perché poi sull'altro filo di sotto andremo a lavorare il bordino finale quindi abbiamo fatto altre tre catenelle partendo dalla quarta dall'uncinetto prendendo solo il filo di sopra lavoriamo tutti i punti alti uno saranno tanti punti alti quanti sono naturalmente le catenelle che avete montato lavorate punti alti nelle catenelle poi continuate a lavorare tutti i punti alti qui nella parte dei ventagli e tutto nei punti bassi sino ad arrivare al centro dove abbiamo unito la nostra coppa alla fine qui del punto basso fate tutti i punti alti sino a lì abbiamo completato col punto alto la prima parte la prima coppa adesso dobbiamo andare a unire le due coppe anche alla base quindi faremo tante catenelle che ci consentano di arrivare da una parte all'altra non devono essere troppe ma non devono essere nemmeno troppo poche guardiamo una due tre quattro cinque sei e sette guardiamo un attimino se sette sono sufficienti no sono un po' poche otto nove nove mi sembra che potrebbero vedete andare bene lasciamo nove vedete voi quante ne necessitano ci andiamo ad agganciare proprio sul primo punto faremo un po' fatica ma ce la facciamo ecco ci andiamo ad agganciare qui con un punto allora diamolo un po' ecco con un punto alto e continuiamo il nostro giro di punti alti fino in fondo andando a lavorare i punti alti anche sulla catenella che abbiamo fatto dall'altra parte e che avevamo vi ricordate interrotto cioè avevamo preso e poi tagliato il filo arriviamo sino qui in fondo tutto con dei punti alti esattamente come abbiamo fatto da questa parte completato il nostro giro di punti alti torniamo indietro con tutto un giro di punti bassi esattamente come abbiamo fatto quando abbiamo lavorato la nostra coppa che era formata tutta da giro di punti alti e ritorno di punti bassi quindi torniamo indietro con tutto un giro di punti bassi arrivate al centro dove abbiamo unito le due coppe farete tanti punti bassi quanti sono le catenelle che avete inserito per unire le due coppe con questi due giri abbiamo unito le nostre due coppe e creato quella che è la base per poter fare poi il corpetto vero e proprio cioè quella parte che deciderete voi quanto far la alta allora in questo che ho già fatto io ho fatto 1 2 3 4 5 6 giri di punto chiamiamolo punto filet cioè è lo stesso punto che abbiamo fatto qui i primi giri intorno alla coppa cioè 3 punti alti in un punto basso saltiamo 2 punti di base di nuovo 3 punti alti comunque adesso lo vediamo assieme l'altezza di questa fascia la fate alta come volete però il punto da fare è sempre questo i giri seguenti dove avete tra i 3 punti nello spazio diciamo creato dai 3 punti alti farete altri 3 punti alti e così via vedete praticamente è proprio il classico punto filet o quello che si fa nella piastrella granny però adesso lo vediamo assieme allora come facciamo abbiamo fatto il nostro giro di punto basso alziamo con 2 catenelle e facciamo nello stesso punto cioè saltiamo scusate un punto di base nel punto seguente lavoriamo 3 punti alti 1 2 e 3 saltiamo 2 punti di base 1 1 2 sul terzo lavoriamo 3 punti alti e così per tutto il giro 2 3 il giro seguente non facciamo catenelle tra un gruppo e l'altro ne saltiamo 2 nel terzo rifacciamo i nostri 3 punti alti questo per tutto il giro ora può darsi che arriviate alla fine che i punti non combinano perfettamente con i punti di base non preoccupatevi quando arrivate alla fine magari ne saltate 1 o ne saltate 3 per riuscire a pareggiarli fate come vi ho detto prima io ne ho fatti 2 6 esatto ne ho fatti 6 se voi lo volete più alto lo fate più alto una volta fatta l'altezza poi andiamo a vedere come fare il giro finale che poi in pratica sono sempre gli stessi ventagli che abbiamo fatto qui intorno alle coppe soltanto andremo a lavorarli anche sugli angoli vedete qui dalle parti posso anche toglierlo il punto vedete andiamo a farlo nella parte che va sopra l'abbiamo l'abbiamo anche sugli angoli nella parte che rimane sotto ho fatto soltanto dei punti bassi in quanto per non fare troppo diciamo così troppo troppo malloppo ora chiudo perché questa era la misura per mettere i bottoni poi facendo questo punto in pratica automaticamente come creiamo anche le nostre asole per poi chiudere il lavoro perché le metteremo i bottoni li metteremo in prossimità diciamo dell'apertura che c'è tra un gruppo di tre punti alti e l'altro comunque questo è prematuro lo vediamo poi dopo adesso limitiamoci a fare l'altezza di quadratini diciamo così che desideriamo abbiamo terminato i sei giri adesso facciamo su questo lato continuando senza girare il lavoro continuando sempre sullo stesso lato facciamo un giro di punto basso qui e su questo lato fino ad arrivare a dove abbiamo il dove abbiamo staccato il filo cioè dove abbiamo fatto la parte laterale del del nostro top quella diciamo che va sotto l'ascella quindi partendo da qui facciamo nello stesso buco diciamo un punto basso e proseguiamo con i punti bassi su tutta l'altezza del nostro top della nostra fascia diciamo così possiamo prenderlo anche ci deve fare solo da bordino non deve non deve essere qualcosa intanto questo poi è quello che rimane sotto dove andranno cuciti i bottoni quindi non occorre fare tanti diciamo tanti smerletti perché tanto rimarebbe comunque nella parte così siamo nell'angolo facciamo due tre punti e adesso facciamo tutti i punti bassi nella catenella diciamo iniziale vi ricordate che avevo detto prendete soltanto un filo prendiamo i due fili o quelli che avete e facciamo tutti i punti bassi sulla catenella iniziale dove era stato fatto il primo giro di punto alto con i punti bassi arriviamo fino al diciamo al sottascella prendendo appunto la catenella i punti della catenella che rimangono ok fino in fondo siamo arrivati alla fine non ci rimane che fare un punto bassissimo proprio nell'ultimo punto che abbiamo a disposizione che poi sarebbe quello diciamo del ventaglio ecco facciamo proprio un punto bassissimo così chiudiamo il nostro punto poi tutti questi fili andremo ad assicurarli con l'ago nascondendoli nei punti che abbiamo lavorato ne abbiamo qualche d'uno questo questo insomma ne abbiamo parecchi ma poi con l'ago andiamo a nasconderli sotto abbiamo in pratica finito e non finito ancora perché dobbiamo fare ancora lo smerletto ma completato una parte a parte il bordo finale adesso passiamo dall'altra parte andiamo dal lato opposto ci mettiamo sul diritto sul diritto del lavoro esatto partiamo da qui abbiamo finito da questa parte sul diritto del lavoro partendo dal primo angolo dove in pratica abbiamo iniziato a fare i punti bassi riprendiamo a fare i ventagli in pratica dobbiamo fare questo bordo vedete noi sin adesso abbiamo fatto questo abbiamo fatto questo bordino laterale più il bordino abbiamo completato il punto basso sopra i punti alti di inizio adesso riprendiamo da qui e faremo un punto basso un ventaglio un punto basso un ventaglio esattamente come abbiamo fatto intorno alla coppa lo vediamo assieme l'inizio lo vediamo assieme allora partiamo da qua andiamo un po' di iniziare così così si vede un po' meno lo scalino ecco partiamo proprio dal primo punto del primo spazio e facciamo un punto basso saltiamo saltiamo i primi tre e nell'arco seguente lavoriamo i nostri cinque punti alti del ventaglio due tre tre e cinque e cinque nello spazio seguente un punto basso esattamente come abbiamo fatto dalle altre parti formiamo anche qui questi nostri ventagli esattamente uguale facciamo tutto il bordo sottostante quando arriviamo all'altra estremità qui negli angoli andiamo a fare i ventagli vedete un pochino più grandi devono ricoprire tutto il bordo adesso vi dico quanti punti dovete fare negli angoli due quattro sei otto nove punti sarà poi un punto basso un ventaglio da cinque e sull'angolo opposto di nuovo nove punti arrivati qui che saremmo poi abbiamo fatto anche questo angolo arrivati qui rifacciamo tutto il giro di punti bassi sul lato opposto a dove li abbiamo fatti all'inizio qui a questo punto il nostro top è terminato non ci rimane che assicurare tutti i vari fili e mettere i bottoni di punti di punti che si 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 Grazie a tutti